Cari amici, presidenti e segretari, questo di nuovo è un piccolo filmato, un piccolo video che vi illustrerà la modalità per registrare e inviare i moduli così come ho indicato nelle linee guida. Le operazioni sono molto semplici. In questo caso questo è esattamente quello che voi vedrete quando inserirete la chiavetta sul vostro computer. È ovvio che ci saranno, potranno avere delle caratteristiche leggermente diverse a seconda del computer, ma sostanzialmente questo è quello che vedete. Vedete che c'è una cartella moduli, voi cliccate sulla cartella moduli e trovate i cinque moduli che sono stati realizzati e che dovranno essere inviati per la relazione del club. La procedura che riguarda un modulo è esattamente identica a tutte le altre, ovviamente i contenuti sono leggermente diversi, ma la modalità è esattamente la stessa. Voi potete lavorare sia sulla chiavetta, sia sul computer, copiando tutto questo materiale sul computer. La condizione indispensabile per poter lavorare è che sul vostro computer sia installata una versione, preferibilmente la più recente, di Acrobat Reader. Questo è il classico programma che viene utilizzato per aprire e leggere tutti i file che hanno un'estensione pdf. Adesso come esempio aprirò uno di questi moduli e apro il primo. Vedete che questo si presenta in una modalità che può essere leggermente diversa dalla versione del pdf, ma comunque in ogni caso voi trovate questa intestazione e soprattutto trovate queste icona con invio modulo. Io qua posso scrivere il nome del club, metto il nome del club dello scandiano, scrivo. Dico che le attività del club iniziano, apro una tendina e ci sono le varie date. È stato previsto, per esempio, non so che l'apertura avverrà, per esempio, diciamo una settimana lunedì 25. E la chiusura delle attività, ci sarà la festa di chiusura dell'attività, ad esempio il sabato 16. Ma è ovvio che può essere messa qualunque data. Sono previsti cinque consigli di club. Nessuno con lo scandiano ha un conviviale. si faranno delle attività, si faranno delle attività per raccogliere dei fondi, per esempio se ne faranno due, una che per quanto riguarda una lotteria e un gazebo pubblico. ci saranno dei meeting ordinari, si fanno sette meeting ordinari, ci saranno sei con relatore esterno e una, diciamo, con relatore interno, un socio del club che si è dimostrato disponibile. è possibile, sono stati controllati almeno un inter-meeting e al momento, possiamo benissimo scrivere, al momento, al momento, non sono previsti convegni, convegni. verrà invece fatto un concerto, quindi perciò possiamo scrivere, è in programmazione, un concerto per la raccolta di fondi a favore, a favore della vaccinazione morbillo. che si terrà al teatro di calma e di albe. Come vedete è già tutto fatto. A questo punto si possono fare varie, si possono fare varie cose. Potete inviare subito il modulo, così com'è. Automaticamente è stata impostata sulla mia mail istituzionale e ovviamente a questo livello voi dovete cambiare, mettere la mail che usate di solito, se avete i vari tipi di posta elettronica. e per esempio io posso dire che utilizzo la, spedisco a piero nasuelli unibo.it da un indirizzo che è il mio indirizzo nasuelli gmail.com A questo punto io non faccio altro che invia, dico che siccome la mia applicazione è quella di Outlook, uso Outlook, voi potreste avere anche un altro tipo, avete le cosiddette webmail. Se per esempio clicco su webmail, uno può a questo punto avere gmail, iu o altro. Questa chiaramente dipende da tutte le varie configurazioni dei computer. A questo punto fate continua, vi dice che è stato mandato il messaggio, ok. A questo punto voi potreste benissimo eventualmente inviare un altro modulo. Vedete che qua mi è apparso la scritta che è arrivato, diciamo, il mio modulo compilato. Quindi tutto questo è stato realizzato in modo tale che possa essere spedito, come vedete, in pochissimo tempo. Potete eventualmente salvare questo modulo. Oppure potete anche salvarlo in un'altra posizione, quindi potete non sulla chiavetta, ma un'altra posizione. Anche questa videata dipende ovviamente dal sistema operativo che avete, dalla versione che avete, del PDF. Potete però scegliere anche un'altra cartella e qui ci sono tutte e delle varie cartelle, ogni computer ha la sua. Potete mandare, salvare in qualunque posizione questo file e poi spedirlo come è legato a qualunque altra mail, quindi anche il presidente di zona e quant'altro. Come vedete le possibilità, io adesso annullo questa funzione, le possibilità sono molte, ma sono anche estremamente semplici. Come vedete, in pratichessi di questo strumento mi sembra che sia particolarmente utile perché permetterebbe poi effettivamente di evitare l'inoltro di informazioni, di chiedere, fare richieste continue sulle attività che vengono svolte, che sono in programmazione nei cram. Grazie.